Sì, sono contento di aver iniziato il campionato così, volevamo iniziare con una vittoria e ci siamo riusciti anche se il secondo tempo siamo calati un po' troppo, abbiamo preso quel gol che non ci voleva e che ci sia già capitato nelle precedenti partite, dobbiamo cercare anche di stare subito sul pezzo il secondo tempo e partire subito forti come iniziamo il primo tempo e cercare di non subire gol. Sì, sicuramente c'è sempre da migliorare, poi partita o dopo partita si cresce sempre di più, dobbiamo cercare di guardare le partite, cosa abbiamo sbagliato per cercare di rimediare subito, le cose che abbiamo fatto giuste per cercare di riproporre anche le partite seguenti e secondo me bisogna essere sempre concentrato in partita e crescere piano piano.